Ciao a tutti, sono Sandro 2011, vedete dietro di me il mulino di Genziana, qui sono tutti i mulini, il nuovo edificio, il nuovo premio dell'evento che è iniziato oggi sul server beta, che è l'evento della Coppa di Calcio, ormai siamo abituati a trovare sempre più o meno gli stessi eventi, a parte la sorpresa che ci hanno fatto con l'evento del decimo anniversario. Questo è l'evento della Coppa di Calcio, quindi funziona sostanzialmente come l'anno scorso, come gli anni scorsi, hanno fatto qualche modifica nell'allenamento, insomma andremo comunque a vederne il gioco. L'edificio premio è questo mulino di Genziana davanti al quale si possono mettere vari altri edifici, un po' come era per il vigneto di Terracotta, al momento non sembra molto interessante, però ormai abbiamo imparato che gli eventi quando vengono aperti in beta hanno dei valori completamente diversi da quelli finali, quindi forse non vale neanche la pena troppo entrare nel merito di quello che dà questo edificio, perché sicuramente ormai abbiamo imparato per esperienza, quando arriveremo alla fine dell'evento in beta e all'inizio dell'evento nei server nazionali sarà cambiato tutto. Quindi focalizziamoci soprattutto sull'evento, su come funziona e vediamo, vediamo anche le differenze rispetto all'anno precedente. Allora andiamo subito qui sul server beta, questa è la mia città, sono entrato da poco su Giove, vedete ecco qui l'evento della Coppa di Calcio, allora andiamo a guardare per prima cosa le... no veramente prima di andare qui andiamo sul forum, prendiamo proprio le primissime informazioni sul forum, ecco qui l'annuncio dell'evento di calcio 2022, qui abbiamo il solito campo di calcio come l'anno scorso, con queste bibite energetiche questi giocatori acquisiscono resistenza e più bibite sono in sostanza la moneta dell'evento, più bibite si consumano e più loro vanno avanti e poi hanno diverse possibilità di premi e quindi bisogna vedere due cose in sostanza per scegliere il giocatore, quello che ci porta più avanti è parità di bibite in proporzione al bibite che dà e quello che ci dà il premio migliore, in particolare il premio del giorno, quando c'è un premio del giorno interessante perché ognuno dà delle probabilità diverse dal premio del giorno. Rispetto a altri eventi la scelta è più semplice perché la scelta per avere il premio del giorno o per avere il premio finale è quella dello stesso giocatore, quindi non devo scegliere prima voglio il premio finale o il premio del giorno, almeno così era l'anno scorso, immagino che sarà così anche quest'anno, vedremo anche se i giocatori sono cambiati o se è rimasto tutto come l'anno scorso. Quando si arriva alla fine del campo si ha il premio speciale, si hanno delle leghe, si vincono i premi aggiuntivi secondo le leghe e in più questo è l'allenamento, vedete, il training, poi c'è invece l'altro gioco che è proprio il torneo. Allora, le carte. Le carte si possono vincere, sono giocatori in sostanza, che si possono vincere nelle missioni, si possono vincere proprio anche nell'evento come premi e rendono i nostri giocatori la nostra squadra più forte e questo vale per i tornei. Questo è il torneo. Nel torneo giochiamo contro altri giocatori, possiamo scegliere una partita facile, difficile, media, più aumentiamo con le carte e più abbiamo possibilità di vincere. Il torneo funziona in maniera diversa dall'anno scorso. L'anno scorso, in sostanza, noi, secondo i giocatori che trovavamo contro, dovevamo scegliere i giocatori più idonei, e praticamente dovevamo mettere i giocatori in difesa se lì prevalevano quelli in attacco, i giocatori di centrocampo se prevalevano quelli in difesa, i giocatori d'attacco se prevalevano quelli in centrocampo. Però noi avevamo la squadra nel suo insieme, invece quest'anno non è chiarissimo qui nel forum come funziona, lo vedremo meglio nel gioco, però in sostanza noi, vedete, mettiamo ogni giocatore accanto a un altro giocatore. Noi dobbiamo vedere la differenza tra i due giocatori. Quindi bisogna fare attenzione a mettere al punto giusto i giocatori di attacco, difesa e centrocampo, e qui non è molto chiaro perché sembrerebbe, vedete, qui abbiamo i giocatori all'attacco, si riconoscono dal colore viola anche da questo simbolino, e qui hanno messo i giocatori d'attacco contro i giocatori d'attacco, quindi non è come era l'anno scorso che se io vedo l'attacco devo mettere la difesa e così via. Probabilmente sembrerebbe che devo mettere i giocatori dello stesso tipo, vedete, però ogni giocatore ha la sua potenza, quindi qui con questo giocatore vinco, perché io sono due, lui è uno, qui siamo tutti due e tre, quindi pareggiamo, quindi rispondendo bene i giocatori si può riuscire a vincere su tutti quanti. Qui lo stesso per la difesa, vedete, abbiamo messo i giocatori in difesa, questo tutti e due vincono perché io ho messo due contro uno e tre contro due, se io qui avessi invertito i giocatori chiaramente avrei fatto un danno, perché che cosa avrei fatto? Avrei messo due contro due che pareggiavano, e tre contro uno che vincevano, quindi avrei avuto una vittoria in pareggio invece che due vittorie. Qui non è molto chiaro, nel senso che questi dovrebbero essere i giocatori del centrocampo, ma in realtà solo questo, il simbolino di questo rombo verde, il centrocampo, quindi non ho capito se uno qui ha sbagliato a mettere i giocatori, oppure se si possono comunque mettere dei difensori al centrocampo, io in questo caso devo rispondere al giocatore previsto da lui, e qui è chiaro che questo è il centrocampo, io ho messo difesa invece che il centrocampo, vedete che perdo, pulsando uno a uno, di fatto vale meno uno, perché il giocatore è sbagliato, però qui sembrerebbe che sono tutti e due sbagliati, cioè io devo rispondere al giocatore che vedo, oppure devo comunque qui mettere attacco, quindi contro centrocampo e qui difesa, lo vedremo nel gioco. Qui vediamo il premio del giorno, quindi abbiamo due premi del giorno, ma questo era già l'anno scorso, un premio del giorno per il torneo, un premio del giorno per gli allenamenti. Qui abbiamo i premi delle leghe, abbiamo visto come funzionano, più si va avanti, più si gioca, più si ha probabilità di vincere premi importanti, qui si possono vincere dei kit aggiuntivi di premi per il premio dell'evento, e quindi insomma è molto interessante. Questo è il premio, il premio finale, l'abbiamo già visto, scusate ho fatto, che cosa ho fatto? Mi viene il dubbio che ho sbagliato tutto quanto? Voi non state vedendo? No, penso che forse andava bene, c'era un problema nel programma che sto utilizzando, ma credo che voi abbiate visto tutto bene, se poi non fosse così basterà rimettere la prima parte, la descrizione del forum e potrò riprendere comunque il video. E allora andiamo avanti a guardare questo forum, quindi questo è il premio, vedete il mulino di Genziana, ai vari livelli fornisce vari bonus, li vedremo meglio nel gioco, questi sono gli edifici aggiuntivi, questo fornisce beni, questo attacco per la difesa, questo attacco per l'attacco, questo fornisce punti forge. Poi abbiamo questi achievements, in italiano i trofei, i famosi trofei, i trofei sono questi che adesso dobbiamo entrare nel gioco, comunque che possiamo metterli nel nostro profilo, e poi abbiamo una serie di nuovi avatar. Ok, a questo punto andiamo nel gioco. Eccoci nel gioco, qui stiamo nel server beta, e vediamo per prima cosa le missioni, abbiamo 55 missioni, probabilmente come al solito abbiamo quelle che si possono fare tutte e quelle giornaliere, che ho fatto le prime 6 missioni, no, non è chiaro quante ne ho fatte, ne ho fatte 10, sì, ne ho fatte 10, questo è che alla 22 poi prendo 50 carte aggiuntive. Quindi ho preso già la base dell'edificio dell'evento, qui ho queste carte aggiuntive, qui ho i biglietti per il torneo, perché io vi ho parlato, vedete, qui si possono vincere le bibite, e si possono vincere i biglietti. Le bibite servono per l'allenamento, mentre i biglietti servono per il torneo, è un po' doppio questo evento. Poi qui vinco 600 bibite, l'anno scorso mi sembra che all'intervallo intermedio se ne vincessero 1000, e poi qui vinco un aggiornamento per la Genziana, per il mulino di Genziana, e vediamo allora questo edificio. Intanto vediamo che sono 8 livelli, quindi qui ne prendo solo una base e più un altro solo 2, me ne servono altri 6, uno lo prenderò dalla scatola sorpresa, me ne servono altri 5. Vediamo allora l'ultimo livello che cosa succede, che cosa ci dà, allora ci dà oltre a felicità e popolazione, ci dà un 40% di bonus sui materiali, che comunque fa sempre comodo, perché si tende sempre a mettere meno edifici che producono materiali ormai, però i materiali servono soprattutto, come in questo momento quando si passa di era, che sono passato all'era di Giove, e servono molti materiali. Poi da casualmente una produzione, vedete, di 30% 20 beni, 50% 25, 20% 30 beni per il tesoro dell'agilità. Se motivato, dà 10 punti, e vabbè, i materiali. Insomma, non ha niente di eccezionale, è un 4x5, poi però ecco, si possono mettere quegli edifici aggiuntivi, che qui non vediamo, vediamo se li vediamo poi all'interno del gioco. Visto che abbiamo parlato di kit dell'evento, andiamo direttamente ad aprire la scatola sorpresa, eccola qui, ormai siamo abituati, apriamola, vediamo che cosa abbiamo, ecco il kit di selezione per il mulino di Genziana, un kit modernizzazione, e 25 punti Forge. Ok, allora a questo punto andiamo a vedere il gioco. Vedete, allora il gioco, qui possiamo, vedo subito che abbiamo tre fasi diverse, 1, 2 e 3. Allora, qui abbiamo l'allenamento, e ci suggerisce di cominciare da qui, anche perché il torneo è bloccato, vedete, dal catenaggio, finché non ho fatto l'allenamento non posso andare nel torneo. Qui ho il premio del giorno, il premio del giorno è il kit del Bazziathlon, che era il premio dell'anno scorso, non è un buon premio, perché non ci dà niente di bonus militare, o per meglio, ci dà il bonus militare, ma ce l'ha in difesa, per l'esercito difensivo e non per l'attacco, insomma, volendo è anche un buon edificio, però io in linea di massima non sarei molto interessato, e penso di cambiarlo. Da quest'altra parte ho le carte, le carte, beh, da una parte, soprattutto all'inizio, ci servono le carte per fare queste partite, per vincere, però, insomma, forse se troviamo qualche premio diverso, potrebbe essere migliore, non lo so, vediamo. E qui, invece, vediamo la nostra squadra. Ecco, la nostra squadra, in questo momento questi, vedete, sono in attacco, questi sono in centrocampo, e questi sono in difesa. Ho poca difesa, e questi giocatori hanno, questa è la loro potenza, quasi tutti sono a uno, ce n'è qualcuno o due, e staremo a vedere. Ok, allora andiamo nell'allenamento, per prima cosa, no, magari che io cambio direttamente il premio del giorno, vediamo, sperando che mi venga qualcosa di più interessante, non è venuto qualcosa di più interessante, santuare la conoscenza, beh, li utilizzeremo per l'antiquario, però oggi dovrò fare comunque il gioco, per far vedere il video, andiamo allora nell'allenamento. Allora, qui abbiamo i giocatori, i giocatori, io non so adesso se sono gli stessi dell'anno scorso, è un po', un po' cambiata, anche qui la dicitura, controlliamo, perché per scegliere il tipo di giocatore, dobbiamo vedere la percentuale, e questo per esempio, con 87 bibite energetiche, ci dà un 9% di premio, di possibilità di vincere il premio. Questo qui con 143, ce ne dà un 13. Adesso io vorrei confrontare questi valori, con i valori dell'anno scorso. E allora facciamo così, questi sono i valori dell'anno scorso, vediamo subito, allora questo giocatore si chiama William, eccolo qui, l'anno scorso con un 10% di probabilità, voleva 87 bibite. Adesso, vedete, le sono cambiate le possibilità. Quindi con 9, ora facciamo così, cambiamo i colori a quelli dell'anno scorso, se no poi non sappiamo più quale dell'anno scorso e quale di quest'anno. Mettiamo in bianco quelli dell'anno scorso, questo abbiamo detto che è William, e qui ci dà il 9, e quante bibite vuole? 87 bibite è confermato. Quindi questo è 1, e qui però non si vede il colore. facciamo così. Ok, invece questo qui, con 143 bibite, questo è Kevin, 143 e 13. Kevin, eccolo qua, 143 e 13. Quindi ecco, vedete l'impressione che abbiano, vediamo se copriamo il formato. Eccolo qua. Quindi probabilmente hanno modificato un pochino la percentuale del premio del giorno, però l'ordine, vedete, qui per ognuno c'è la percentuale di vincere il premio del giorno. Il numero di bibite è necessario, e quindi facendo una divisione, quante bibite servono mediamente per prendere il premio. Quindi servono 9,66, quindi 1,100, quindi se io punto al premio, conviene il primo. E l'avanzamento sembrerebbe, sia come l'anno scorso, che è equivalente, quindi il primo sarebbe migliore anche per l'avanzamento. Vediamo qui l'ultimo, qui chi abbiamo? Qui abbiamo Gavin, 4% del premio e 55 bibite. No, facciamo qui. Gavin, 4% del premio e 55 bibite. Quindi l'impressione è che sia uguale l'ordine, sono un po' diminuiti i premi. Ok, diciamo che a questo punto può anche essere discutibile che cosa fare, visto che a me in realtà il premio del giorno non interessa, quindi potrei anche decidere di prendere qui il secondo, che mi dà i punti forze come premio, però per il momento noi puntiamo al premio del giorno, perché sembrerebbe che lo stesso ordine vale anche per i premi finali, e quindi scegliamo William che è il migliore. Questo William, sì, l'anno scorso bastava metterci il mouse sopra e compariva, invece adesso no, è più complicato, ok. Allora, scegliamo William, andiamo avanti, e abbiamo vinto delle carte, no, 5 carte, no, una carta sola, ma non si è capito bene, abbiamo vinto solo una o 5. Allora, qui adesso abbiamo, Dave, 17%, e 144. Dave, 17, e 144, e infatti anche qui sono, è diminuito un po' il valore. Poi qui abbiamo Paul, 5% e 53, Apple è rimasto uguale invece, no, no, ho sbagliato, il pollo doveva andare, ok, e poi qui sotto abbiamo Michael, 9%, e 89, Michael, 9%, e 89, vedete anche qui, stesso discorso. ok, bene, 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 io a questo punto quasi quasi cancellerei queste vecchie, visto che abbiamo capito che è quello che cambia rispetto all'anno scorso a questa percentuale, così non abbiamo più il problema della formattazione, mettiamo la formattazione sempre la stessa, giallo, per giallo io in genere metto le celle in cui inseriamo un valore e non quelle calcolate, questa rimane in bianco perché è una cella calcolata, no, che fa la divisione fra i due valori. ok, allora qui già mi sono dimenticato, abbiamo detto che abbiamo Dave, Paul, e Michael, e Michael è il migliore, e quindi prendiamo Michael. L'anno scorso c'era una regola così un po' empirica che poi non sempre funzionava, che bisogna prendere sempre quello in mezzo, in mezzo come avanzamento, però insomma ripeto non sempre funzionava, andiamo ancora avanti, Frank 457, Frank 457, è il peggiore, qui abbiamo 92, Jamie e 9, e qui abbiamo Samuel 14132, tra poco li avremo riempiti tutti, basterà a vedere il nome, quindi abbiamo detto Frank, Jamie, e Samuel, Samuel migliore, questo Samuel si, ok, 20 beni, tra l'altro i beni mi sono particolarmente utili, perché sono nell'era di giove, ho iniziato da poco, quindi i beni sono essenziali, vediamo qui, ho ancora parecchie bibite energetiche, anche se forse non vale la pena prenderle tutte, perché il premio del giorno non è un granché, qui abbiamo Gavin, già l'avevamo visto, qui abbiamo Michael, già l'avevamo visto, qui abbiamo, Henry è nuovo, 16% e 138, 16% e 138, eccolo qua, però vediamo qui, qui c'è qualcosa che non corrisponde, ho sbagliato io a mettere le percentuali, Henry, James, Gavin, Michael, Henry, Henry ha il 16% con 138, ok, questo c'era solo il 9 con 92, il gemmi che è un po' anomalo, ma anche qui però, forse con questi cambi di percentuali sono cambiate pure, quindi forse bisogna ristudiarlo un po' tutto, questo valore, diciamo che questo valore, questo calcolo, poi o lo faremo noi o ce lo potrà fare per noi il Wikifandom, però secondo questi valori che escono qui, bisogna metterli in ordine, chi vuole meno bibite e a quelli che conviene prenderli, quindi non so se qui ho fatto un errore, l'ordine sembrerebbe variato rispetto all'anno scorso, a questo punto io interromperei di fare, di utilizzare queste bibite energetiche, perché non è importante a questo punto andare avanti, abbiamo capito come funziona, rimane da capire bene l'ordine, come è fatto l'ordine di questi giocatori, o ce lo calcoleremo, o lo vedremo nel Wikifandom, e passiamo a questo punto invece dall'altra parte, passiamo, abbiamo fatto l'esercitazione, passiamo, mettiamo da parte queste bibite per quando avremo un premio del giorno più importante, e passiamo invece questi otto biglietti che abbiamo, passiamo al torneo, io sono molto in dubbio qui se cambiare il premio, perché tutto sommato le carte le prendo dalle missioni, le prendo dall'allenamento, io cambierei il premio, anche qui, vediamo che cosa, ecco qui, ho fatto bene, è uscito fuori la piazza dei vincitori che è molto buona come premio, la piazza dei vincitori ci dà un 6% d'attacco che è un 3x3 già a livello 1, ma se lo porto a livello 2 ci dà un 15% d'attacco quindi è molto buono, e andiamo allora al torneo e cerchiamo di capire come funziona, allora io intanto ho un 15, non so se ho 15 giocatori, un 0 di, ma qui dobbiamo, dobbiamo vedere, questo è il giocatore migliore, che ha 139 giocatori con 16.000 di, ha 16.000 vittorie probabilmente, 139 credo che sia più che il numero di carte dalla potenza che ha, andiamo a vedere comunque, noi abbiamo 15, vediamo la nostra squadra, 3, 4, 5, no, non abbiamo neanche 15 persone, quindi questo 15 probabilmente è la nostra potenza, e andiamo allora a giocare la partita, io ho 15, 7, 12, 17, quindi forse posso giocare anche contro questo 17, no, qui mi fa selezionare necessariamente, forse adesso siamo, siamo in prova, mi fa selezionare necessariamente il più, il più basso, vediamo che cosa dice, seleziona un avversario per provare, per giocare lì contro in una partita, vabbè, chiaramente, se, se vai contro i giocatori più forti, ti dà premi migliori, però più difficile, abbastanza evidente, eh, qui posso cambiare i giocatori, ogni 8 ore, non so bene, vediamo, adesso posso soltanto scegliere questo, però, ok, allora vedete che qui ho tutti i giocatori in attacco, qui in centro campo, e qui in difesa, e allora se ho capito bene io devo fare la stessa cosa, 2 e 1, questi due vinco tutti e due, quindi sono messi bene, qui anche vinco tutti e due, e qui vinco, e qui devo scegliere un giocatore, quindi dovrei scegliere un giocatore in difesa, lo posso scegliere da qui, ma me l'ha detto lui, forse, forse c'è soltanto questo, ma è rimasto di giocatore, o forse il giocatore in difesa c'era soltanto questo, ma praticamente mi ha detto lui cosa fare, eh, ok, qui non mi dà, l'anno scorso mi dava la percentuale di vittoria, adesso non me la dà, vediamo, ecco la, la partita, ho vinto, ok, apriamo il premio, ottimo, ho vinto direttamente la piazza dei vincitori, ecco, adesso mi permette, di, di scegliere anche quelli più difficili, io ho soltanto 15, forse non vale la pena, vediamo qui i premi, 18 piazza dei vincitori, 12, e 6, anche gli altri premi, qui ho 25 punti, quindi ho 10, però insomma, probabilmente con 21 perderei, e proviamo con questo da, da 13, qui vinco, vinco, questi qui, siamo, siamo pari, tutti pari, vediamo se riesco a, a migliorare qualcosa, allora, qui ho parecchie carte, allora, come centrocampo, qui ho 2 e 2, non ho, non ho niente di meglio, e anche qui ho solo quelli da 1, quindi c'è poco da fare, eh, però se le carte le ha già scelte lui, forse a questo punto c'è poco, da fare strategia, accettiamolo, vediamo che succede, e abbiamo vinto, ok, medaglie, niente di interessante, andiamo ancora avanti, vogliamo provare a fare la parola, una partita difficile, ma probabilmente al momento non conviene, perché siamo ancora troppi deboli, facciamo ancora una partita intermedia, qui vinciamo, qui vinciamo, vediamo se possiamo cambiare qualcosa, in effetti, tutti li vinciamo, no, no, qui vince lui, però probabilmente non ce l'ho io, un giocatore più alto, vedete, questi sono i giocatori, ho tutti i giocatori deboli, quindi c'è poco da fare, però io vinco su 4, lui su 1, dovremmo vincere uguale, proviamo, e abbiamo vinto, ok, 25 e beni, andiamo ancora avanti, selezioniamo sempre questo intermedio, vediamo se abbiamo dei giocatori migliori, 5-2, niente, ma qui lui sceglie sempre i giocatori migliori, allora a questo punto basta fare le partite così come sono, mi viene questo dubbio, la strategia la fa lui, non c'è bisogno che la facciamo noi, abbiamo vinto ancora, ok, 25 e beni, volevo dire abbiamo ancora 4 biglietti, beh, utilizziamoli, visto che abbiamo la piazza dei vincitori, proviamo a fare quello difficile, vediamo che succede, questo li vince tutti lui, vediamo se abbiamo dei giocatori da cambiare, non abbiamo niente da cambiare, noi ne vinciamo solo uno, non vale la pena secondo me, ah, infatti me l'ha detto lì, me l'ha detto, allora prima mi era sfuggito, se io scelto questo, vedete, ah, risultato perdi, ah, quindi lui me lo dice direttamente prima, se vinco o perdo, se invece scelgo quest'altro, mi dice che vinco, ma è già fatto il risultato, e io posso, posso cambiare poco, perché ma ha già scelto lui i giocatori migliori, vedete, 2-2, e uno mi ha messo 5-2, 2-2, io ce l'avevo da uno, mi ha messo lui già quelli migliori, quindi io qui non posso fare niente, io posso soltanto andare a vedere i giocatori, qui non si torna più indietro, facciamo così, quindi qui mi dice che vinco, qui mi dice che perdo, e quindi certamente vado qui e vinco, o c'è qualcosa che mi sfugge, è un po' limitante questo gioco, nel senso far tutto lui, ok, abbiamo vinto, un'altra piazza dei vincitori, ottimo, andiamo ancora avanti, vediamo che mi dice, qui mi dice che perdo, e non posso fare niente per, per vincere, perché non ho giocatori migliori, e quindi niente, qui, mi dice che vinco, io faccio quello che vinco, è chiaro, infatti ho vinto, non so, c'è qualcosa o c'è qualcosa che mi sfugge, o veramente, il gioco è automatico, ancora di nuovo, qui mi dice che perdo, e quindi rinuncio, qui mi dice, matchless draw, e per draw che cosa intende? Pareggio? Vediamo, 5-2, qui vincerei, 2-2-2-2-2, non è chiaro, vediamo questo draw che succede, allora intanto vediamo se possiamo cambiare qualcosa, no, non possiamo cambiare niente, perché abbiamo solo giocatori peggiori, vediamo che succede, draw, bah, draw anche qui, e che significa draw? Intanto qui abbiamo vinto, non si capisce che cosa intende qui per draw, intanto qui vediamo la lega, siamo alla lega bronzo, dove si vedono i premi delle lege, eccolo qui, lega bronzo, vedete nella lega maggiore, si prendono parecchi kit, si prendono le sentinelle, vorrei capire questo draw, andiamo sul, draw non viene a tirare, ma, draw, disegnare, eh, ho capito, ma, proviamo a mettere, win, draw, e lose, vince, ah, il draw è pareggiare, allora, non lo sapevo che fosse pareggiare, e se si pareggia, che significa? se si pareggia, vinco un premio diverso? bah, non è chiaro, andiamo ancora nel gioco, allora, vediamo che qui, perdo, e quindi me ne vado, qui, vinco, e quindi gioco, e infatti abbiamo vinto, 10 punti, andiamo ancora, qui, perdo, qui, vinco, eh, ho finito i biglietti, basta, ho finito, quindi qui, abbiamo fatto, e, manca una cosa, la scatola sorpresa, non abbiamo, ah no, l'abbiamo aperta, la scatola sorpresa, basta, allora abbiamo, abbiamo fatto tutto, qui abbiamo vinto queste, cinque piazze dei vincitori, ma forse qualcuna, già ce ne avevamo, io in realtà, non le metto queste piazze dei vincitori, perché con due kit, potrei mettere al secondo livello, però, siccome nell'antiquario, si vincono a volte, soltanto le, le, le basi, ma non ho mai visto dall'antiquario, che si vincesse l'aggiornamento, preferisco conservare gli aggiornamenti, per quando trovo la base, qui intanto c'è un, circolo dell'orrore, per me è molto interessante, perché se non sbaglio, me ne manca solo uno, ho, la base, i quattro aggiornamenti, sono cinque, più un kit, e sono sei, un'altra base, non mi serve, sono sei, in realtà, a me ne servirebbero sette, per arrivare al livello massimo, quindi, effettivamente, questa base, mi interesserebbe, e io, in genere, non vado sopra i 70 mila, per questo tipo di cose, però, insomma, essendo quello conclusivo, 90 mila, glieli, glieli offro, vediamo, se dovessi vincerlo, ok, quindi, tornando al nostro, al nostro, al nostro evento, del monito vigenziano, a questo punto, la base, è un kit, non ho altro, non abbiamo visto, gli edifici aggiuntivi, probabilmente, li troveremo, come premio del giorno, qualche giorno, qui dentro, e direi di fermarci qui, finiamo qui, insomma, l'evento, sembra molto simile, a quello dell'anno scorso, e se ho capito bene, ma ancora, mi sembra un po' impossibile, semplificato, perché basta vedere, se vinci, se perdi, scegli la partita migliore, c'è poco da cambiare, i giocatori, perché già ha scelto lui, quelli migliori, quindi c'è, c'è poco da fare, diventa quasi automatico, l'edificio al momento, non sembra così interessante, ma sicuramente, lo cambieranno, perché negli ultimi due eventi, l'hanno sempre cambiato, e migliorato molto, rispetto a quello che era all'inizio, ci sono sempre le proteste, dei giocatori, e poi alla fine, lo migliorano, anche loro hanno interesse, a mettere gli edifici, importanti, perché se no, nessuno partecipa all'evento, nessuno spende diamanti, e così via, e vedremo, più avanti magari faremo un altro video, o altri due, uno forse alla fine, quando metteremo l'edificio, se lo metterò, non lo so neanche, staremo a vedere, e ciao a tutti, buon game, e alla prossima!